Eccoci qua, eccoci qua. Dopo due, tre, quattro partite che sembrava avessimo cominciato a giocare bene, discretamente bene a calcio, ci ritroviamo a dover commentare un indegno, indegno e sottolineo indegno, pareggio 1-1 in casa contro la penultima in classifica che è l'Empoli. Quindi pareggio in casa con l'Empoli penultima in classifica. E se c'era proprio un motivo per cui io temessi l'indomito Empoli, molto molto tra virgolette ovviamente ironico per chi non l'avesse capito, era proprio perché hanno cambiato allenatore, perché hanno preso, e questo qui sono serio, Un allenatore che ho sempre stimato, perché sia dal punto di vista umano che anche professionale, che è Davide Nicola, che è uno che quando arriva in situazioni disastrose, vedi Crotone, vedi anche Salerno, è uno che sa risollevare le squadre in maniera eccellente. Quindi se c'era un motivo per cui io temessi che non fossimo riusciti a prendere i tre punti stasera, era proprio quello, perché loro hanno cambiato allenatore, perché se c'erano quello vecchio stasera, in qualche modo, secondo me, la partita sarebbe andata diversamente. Idea mia, ovviamente non avremo mai la controprova. Detto questo, io sono abbastanza deluso, abbastanza deluso, non tanto per il pareggio in sé, non tanto per il pareggio in sé, ma per come è arrivato il pareggio, perché il detto dice sempre, squadra che vince non si cambia. Ed ecco uno dei motivi perché io me la prendo con questo allenatore qui, c'è gente che dice no, ma Allegri va tenuto, no, ma Allegri dovesse vincere lo scudetto, è da tenere assolutamente, ma anche se arrivasse secondo, anche se arrivasse quinto, chi c'è meglio di Allegri? Chi c'è meglio di Allegri? Forse come gestore vi potrei venire incontro, come gestore un pochino come Ancelotti, quello sì, forse vi posso anche dare ragione, ma come scelte tecniche, come scelte tattiche, c'è il 99% degli allenatori in giro per il mondo molto meglio di Allegri. E stasera ne abbiamo avuto l'ennesima dimostrazione, perché quando tu dopo l'1-0, quando dopo che hai preso il pareggio, poco prima, poco prima del gol dell'1-1, tu parli con i tuoi collaboratori e dici c'è qualcosa che non va, me sa che tocca cambiare, ma cosa aspetti a cambiare? Cosa stai aspettando a cambiare? Che prendi gol? E infatti dopo quando ha preso gol ha messo Hildiz Eiling Junior, perché chiaramente doveva andare a riprendere la partita. Certo, però mai che mettiamo una toppa prima, dobbiamo sempre mettere la toppa dopo che i buoi sono usciti dalle stalle, dobbiamo sempre riparare dopo che abbiamo preso il gol, dopo sempre che il problema è arrivato, mai che cerchiamo di prevenirlo il problema. Quando il problema è arrivato cerchiamo di metterci una toppa. E poi non ti dice sempre bene, non è sempre Natale, non trovi sempre il Vlaovic che ti fa gol al 95esimo, non trovi sempre la botta di culo sul calcio d'angolo all'ultima azione. E succede che pareggi contro l'Empoli, contro la Lazio, contro il Milan, contro chiunque, contro chiunque. E poi stasera abbiamo messo Milik perché lo ritenevo migliore per questo tipo di partita e si è fatto espelle dopo 18 minuti. Espulsione, apriamo una parentesi, secondo me giustissima perché a termini di regolamento ci sta, ma stasera come se sono sbrigati? Come se sono sbrigati a dargli l'espulsione? Mentre quando era Peildiz aveva detto che era ininfluente contro il Genoa perché la partita era quasi finita, o contro il Sassuolo, Berardi neanche hanno fatto l'onfield review quando è andato a Martello su Bremer. Come se sono sbrigati stasera? Ma guarda caso chi c'era al VAR stasera? Guarda caso chi c'era? Chi andava in aeroporto con lo zainetto dell'Inter? Guarda caso, ma proprio guarda caso, guarda caso, guarda caso, guarda caso, guarda caso. E mi taccio, mi taccio, mi taccio perché è meglio. Detto questo, una partita veramente al di là di tutto questo ignobile, una partita che è stata, è vero che è stata condizionata dall'espulsione di Milik, ma tu dopo che fai gol su calcio d'angolo con Vlaovic, ma invece di chiuderti dietro e di rimetterti come sempre per difendere l'1-0, è vero che sei in una situazione di difficoltà, ma porca troia, ma un pochino, ma non ci schiacciamo dietro? Tutti dentro l'area di rigore stavamo. Ma vogliamo stare un pochino più ordinati? Vogliamo non mettere sempre il pullman davanti alla porta quando ci stanno queste situazioni? Vogliamo far capire che tu, nonostante sia in inferiorità numerica, tu sei nettamente superiore, con tutto il rispetto all'Empoli? Ma vuoi perlomeno un pochino stare un po' più alto? Ma vuoi continuare a fare il tuo? Vuoi gestirla in una maniera migliore? No, siamo schiacciati dietro, poi Allegri che ha detto qualcosa non va, qualcosa non va, io ancora sto aspettando che cambia, ancora sto aspettando che dica a Bremer di mantenersi un po' più alto, perché gliel'ha detto solo dopo che il gol l'abbiamo preso, e che cosa aspetti? Che cosa devi aspettare per dirgli che deve stare un po' più avanti e non schiacciasse? Che cosa? Devi aspettare che dipiglia un punto contro la penultima in classifica? Ma che cosa devi aspettare? Che cosa? Che cosa io? Dico io. Cioè, io veramente... E poi rischiavamo pure di prendere il 2-1, c'è stata più di qualche volta, abbiamo rischiavamo di prendere il 2-1 in contropiede, dopo un calcio d'angolo a favore loro, cioè io veramente rimango basito, rimango basito, e ripeto, non è tanto che io sto arrabbiato per il pareggio in sé, perché la partita storta può capitare con chiunque, all'andata ti è capitata col sassuolo, anche se lì ci sarebbero tante cose da dire, l'abbiamo dette a caldo, ci sarebbero tante cose, e ci sono tante cose da dire qui, ci sono, che un po' l'ho detto chiaramente fino ad adesso, ma ci sarebbero tantissime cose da dire, tantissime cose da dire, perché la partita storta è capitata all'andata col sassuolo, è capitata adesso al ritorno contro l'Empoli, ma pure noi cazzarola per farla diventare una partita storta ci abbiamo messo veramente del nostro, in particolar modo l'allenatore sbagliando qualsiasi tipo di scelta tecnica, tattica, in sta partita qui, e poi facciamo giocare, facciamo giocare Miretti, Miretti stasera ignobile, veramente inguardabile, inguardabile Miretti stasera, ma d'altronde non è neanche colpa sua, non è neanche colpa sua, perché quello c'avevi stasera e con quello dovevi giocare, non è neanche colpa dei Miretti, per carità, però mi chiedo se questa è l'alternativa ai titolari, a sto punto mandalo in prestito e fa giocare qualcun altro, preferisco giocare qualcun altro fuori ruolo, metti il centrocampo a 4, 3-4-1-2, se proprio sta in queste situazioni qua, se proprio vedi che non va, perché ci ostiniamo a metterlo, cambia un pochino modulo, pure che non fai 3-5-2, fai 3-4-1-2, metti un riferimento dietro alle punte, che faccia raccordo tra centrocampo e attacco, invece noi ci ostiniamo a metterlo 100% a tutti i costi, Kostic, ancora ci ostiniamo a mettere Kostic, Kostic, perché Kostic? Che non mette più un cross neanche a pagarlo, Kostic, perché gioca ancora? Perché noi ci ostiniamo a tenere in panchina Ealing Junior, che scalda la panchina e tutte le volte che entra cambia la partita? Perché? Perché? E allora poi quando succedono queste cose qua ti sta bene, a me dispiace dirlo perché ovviamente mi dispiace, però ti sta bene quando succedono queste cose qua, e non devi andare a piangere nel post partita in conferenza stampa, perché te le meriti poi quando succedono certe cose, e stasera è giusto ed è pure delusso, ed è pure delusso che abbiamo pareggiato 1-1, perché abbiamo rischiato pure di perderla nel finale, e ci sta bene, ma tanto noi da questo, come dico sempre, non impareremo mai, perché siamo così, siamo così, non abbiamo imparato le altre volte, non abbiamo imparato centinaia di altre volte indietro, e non impareremo neanche da qui a centinaia di altre volte in avanti, se rimarrà sto allenatore qua. Prima va via, questo è meglio è, ficcatevelo bene in testa, non è che continuiamo a difenderlo solo perché sta secondo in classifica, sta facendo il suo dovere, perché quest'anno non c'ha le coppe, basta, basta, perché questa è la verità, e noi invece continuiamo a difendere, allegri, 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 basta, prima se ne va e meglio è per tutti, chiunque venga non mi interessa, basta che se ne va, perché veramente adesso ha stufato, ha stufato lui, avete stufato voi che lo difendete, eh che cacchio, vabbè, detto questo, Juventus inguardabile, Juventus inguardabile per centinaia di ragioni, dall'allenatore alla partita sfortunata, tra di fatto che ci abbiamo messo veramente, veramente, veramente del nostro per farla diventare una partita che tu avevi anche, in cui tu eri anche andato in vantaggio, invece di gestirla in un certo modo, invece di riuscire a tenerla in vantaggio, ci siamo messi schiacciati dietro, per far sì che questi guadagnassero metri, guadagnassero fiducia, pareggiassero, e tu, dal fatto che era una partita complicata, era difficile, molto difficile, andare a rifare un altro gol, se non sculando, chiaramente come sempre, questo era il riassunto, quello che avrei potuto dire in 10 secondi, invece mi sono sfocato in 10 minuti di video, questo è, e noi ci vediamo alla prossima, ciao ragazzi, buona serata, se è così, vogliamo dire buona serata, giusto per dire, ma fino alla fine, sempre forza Juve, mi raccomando, ciao ragazzi.